L'almanacco della fede Di Padre Livio Come sempre incominciamo con il nostro pensiero spirituale Che vorrei dedicare oggi a quello che la Madonna ci ha detto Nel messaggio, sull'ultimo messaggio Cioè che Dio le ha permesso di amarci E questo l'abbiamo già spiegato Poi ha detto E di guidarvi verso la gioia del cuore Bellissimo, cari amici Ora vorrei oggi Approfondire questa espressione Della Madonna La gioia del cuore Dunque Ovviamente, cari amici Si usano due espressioni che sembrano identiche In realtà non lo sono Sono un po' diverse Una è la pace del cuore L'altra è la gioia del cuore Allora la pace del cuore Come sapete È Possiamo ben dire Il bene Maggiore che possiamo avere qui su questa terra Perché Un cuore in pace Con Dio Con se stessi E con gli altri È Il bene più prezioso Che uno possa avere nella vita Insomma Cerchiamo adesso di essere un po' meno materialisti Cosa serve? Possedere il mondo intero Possedere Ricchezze immense Se poi Non hai la gioia del cuore Se sei inquieto Nella tensione Nello stress Nella paura Nel peccato Nell'odio Invece uno può avere la gioia del cuore Cioè Voglio dire La pace del cuore Come Effettivamente Molte persone Hanno la pace del cuore E loro sanno benissimo Cos'è la pace del cuore È un dono di Dio Che dà Ma che nel medesimo tempo Da parte nostra Esige Esige Come dire Una corrispondenza Cioè Come tu Quando semini Mi viene in mente La parola Del buon seminatore E cioè Il buon seminatore Dio Semina dappertutto Poi Dipende Da dove cade il seme Se cade In terreni Asperi O spinosi E il seme Non cresce E quindi È un seme Sprecato È un'occasione Persa nella vita Se invece Il seme Cade In un terreno Fertile Allora Produce In quantità diverse A seconda Appunto Portandoci sul piano Esistenziale Della nostra risposta Alla chiamata Allora La pace del cuore Dunque È una riconciliazione Con Dio Che avviene Attraverso Il cammino Di conversione Cioè la situazione Esistenziale Del peccatore È un'esperienza Che facciamo tutti Quindi non c'è bisogno Neanche di tante dimostrazioni Cioè chi è nel peccato Non è felice Dice di essere felice Dice di godersi La vita Ma in realtà Chi è nel peccato E cos'è il peccato Il peccato È la conseguenza Del nostro distacco da Dio È la conseguenza Della nostra Violazione dei comandamenti È la conseguenza Di una decisione Di camminare Sulla via del male Insomma Questo è il peccato E quindi Chi è in questa situazione Sa benissimo Che C'è il rimorso Della coscienza Prima di tutto Che comunque È un tarlo Che corrode interiormente Ed è proprio Questo tarlo Possiamo dire Della coscienza Che rimorde Che ha portato Molti peccatori Alla conversione E ci ha immortalato Questo processo Proprio di Manzoni Nei promessi sposi Quando ha raccontato La conversione Dell'innominato Quindi La pace del cuore È Quel punto di arrivo Che noi poi Sperimentiamo Soprattutto Quando col processo Di Di cammino Di revisione Di vita Dopo la decisione Della conversione Facciamo la confessione Poi Conoscersi Da confessionale Si è felici Ma quante volte Abbiamo sperimentato Specialmente Quando Sono tanti anni Che non ci confessiamo E noi lo vediamo Soprattutto a Međugorje Perché A Međugorje La Diciamo così Le file di penitenti Sono molto diverse Fra di loro Ci sono i penitenti Così abituali Che Si confessano Regolarmente E sono una parte Poi c'è una parte Che forse è Quella più numerosa Che viene dei pellegrini Soprattutto Di altri paesi Che Si confessano Dopo Dieci Venti Trenta Cinquant'anni Di vita Trascorso nel peccato Quindi Quando uno Ha fatto una bella confessione Riceva la soluzione Sente veramente La pace Del cuore Anche la gioia In quel momento Perché Vede Sperimenta La misericordia divina Che comunque Col semplice pentimento E proposito Di non pecare più Ti ha assolto Da tutto il male Che hai fatto Perché Cristo L'ha espiato Al tuo posto E per tuo amore Sulla croce Questa è la pace del cuore E Diciamo Il risultato E Lo sbocco Normale Del cammino spirituale Che porta A una vita Di grazia La gioia del cuore Cari amici È Qualcosa di più Perché Noi possiamo Avere la pace del cuore Ma non avere la gioia Perché Siamo nella tribolazione Perché siamo nell'oscurità Perché siamo nella tentazione Perché Come dire Abbiamo Come dire Quei periodi Di aridità Che Fanno parte Del cammino spirituale Sapevo Per esempio Che c'erano dei santi Che Avevano la pace del cuore Ma non la gioia Uno di questi Era per esempio Santa Bernadette Che era sempre Tormentata Degli scrupoli E lo scrupolo Suo Che l'ha tormentato Fino Agli ultimi giorni Della sua vita Era che Lei temeva Di non avere Risposto Del modo dovuto Con la perfezione dovuta Alla grazia Che aveva avuto Di vedere la Madonna E di essere la sua messaggera Quindi Questo era un turbamento Che aveva Pur conservando La pace del cuore Invece la gioia del cuore Cari amici Sono quei momenti particolari E' una grazia speciale Che Dio dà Attraverso la quale Attraverso la quale Come dire Sperimentiamo il suo amore Sperimentiamo il suo amore Ci sentiamo amati Da Dio Ci sentiamo Come dire Ricolmi Della sua tenerezza Per dire una parola Che piace molto A Papa Francesco E quindi E quindi Come dire Si gusta quella gioia Che hanno I santi nel cielo Come ci ha detto la Madonna In un bellissimo messaggio Nel cielo c'è la gioia Ora Qui sulla terra Nel cielo c'è la gioia Là è permanente E' una gioia permanente E' una gioia che è come Una fonte Zampillante Di vita eterna Di cui ha parlato Gesù Nel discorso Con la Samaritana Allora La Madonna Ci dice Che lei è qui A guidarci Verso la gioia del cuore Allora io vorrei farvi capire Cari amici L'importanza Di questa espressione Della Madonna Cioè voi sapete che la Madonna Voi sapete che la Madonna Quando dice Le parole pesanti Sono veramente pesanti E come appunto Nel messaggio Nel messaggio del gennaio La Madonna ha detto Nel messaggio di febbraio La Madonna ha detto Quello di gennaio Scusate Madonna ha detto Che Il futuro è al bivio Perché l'uomo moderno Non vuole Dio Perciò l'umanità Va verso la perdizione Quindi Ci ha fatto una fotografia Ed un'umanità Che va alla deriva Verso la perdizione Non è la duplice morte Quella Quella del corpo E quella dell'anima E la Madonna ci ha parlato Appunto Del tempo delle prove Del tempo dei segreti Quindi Io ricevo ogni giorno I vostri email Di persone Che sono A volte Nella pace Nella tranquillità Nella serenità Però hanno sempre Un po' di paura Pensando al futuro Altri addirittura Sono angosciati Eccetera Ecco La Madonna Cari amici Ci vuol dire questo Guardate Siamo Siamo In un passaggio storico Che poi è Un passaggio Della storia Della salvezza Predetto Profetato Dall'Evangelia Dalle Sacre Scritture Dall'Ambilio Dalla Chiesa Dall'Ambilio 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 E' il passaggio Della grande battaglia E' il primo Grande combattimento Spirituale E' il passaggio Che adesso Conosciamo bene Dall'Apparizione Di Marianne Quello fra la Donna E il Drago E' il primo combattimento L'Apocalisse Che avrà comunque La vittoria finale Della Madonna Ma La Madonna ci dice Che non bisogna aspettare La sua vittoria finale Per essere Nella gioia Lei vuole Che noi Già adesso Già adesso Che siamo già Nella tribolazione Perché Non c'è dubbio Cari amici Che E voi Per le prove Collettive Che l'umanità Sta subendo Da ormai Qualche anno E che Si accadescono Giorno per giorno Anche a causa Della cattiviera umana Che aumenta E noi siamo già Entrati in questa Dimensione Dall'Apocalisse Cioè Dalle grandi prove Che è Satana stesso A scatenare E come ci ha detto Nel messaggio Cari amici Di gennaio Madonna E ci ha detto Che Satana Vuole la guerra Vuole l'odio Nei cuori E nelle nazioni Noi tutto questo Lo avvertiamo E questo sarà Quello che caratterizza Il mondo Più andiamo avanti Cioè Più andiamo avanti Il quadro Del mondo E questo E quello che ci ha detto La Madonna Dell'odio L'odio contro Dio Contro Cristo Contro la Madonna Contro i cristiani L'odio reciproco E tutto questo è Sta bollendo Diciamo Nei cuori Di tutti gli uomini Insomma E una E dal cielo Vedono tutti i cuori Cari amici La cosa meravigliosa E che Cioè È come Quando i tre Giovani Attraverso una fornace Ardente Vi ricordate quel passaggio Della Sacra Scrittura Attraverso Attraverso la fornace Ardente Cantando Ecco La Madonna Vuole Che anche noi Attraversiamo Il tempo Delle prove Attraversiamo La fornace Ardente Per arrivare O se vogliamo Il Mar Rosso Per arrivare All'altra sponda La Madonna Vuole Che Facciamo Questa Questa Come dire Traversata Cantando Con la gioia Nel cuore E di fatto Non si comprenderebbe Questa espressione Che lei dice Dice Che In questo tempo Di grazia Satana Vuole Sedurvi E voi figlioli Guardate mio figlio E seguito Verso il Calvario Nelle nuci Nel digiuno Presupposti Necessari Per la pace Del cuore E poi dice Sono con voi Perché l'Altissimo Mi ha permesso Di amarvi E di guidarvi Verso la gioia Del cuore Poi dice Della fede Dell'amore Un messaggio Meraviglioso Cioè Detto in parole Povere Quello che volevo Dirvi stamattina E che ritengo Che sia molto importante Per tutti Per me Per voi Cioè Se ci lasciamo Plasmare Della Madonna Se ci lasciamo Guidare da lei Se mettiamo in pratica Quello che lei dice Nei messaggi Lei veramente Ci fa Attraversare La valle tenebrosa Come dice Il salmo Del buon pastore Ci fa attraversare La valle tenebrosa Avendo la gioia Del cuore Che E come farà Come faremo Ad avere la gioia Del cuore Madonna lo dice Perché Dio Mi ha permesso Di amarvi In un modo speciale E quindi Voi In questa luce Della fede Sentirete sempre Crescere Dentro di voi Un amore Sempre più grande E l'amore Cari amici Come sappiamo tutti Genera la gioia Perché noi siamo Noi sobbalsiamo Di gioia Quando percepiamo Di essere amati Non c'è dubbio Poi quando capiamo Che siamo amati In un modo infinito Come ha detto La Madonna Vi amo immensamente Siamo amati Da Maria Siamo amati Da Gesù Siamo sotto Le ali Dell'amore di Dio Cari amici Allora noi In questa In questo quadro Di protezione Esterna E di inabitazione Interna Della pienezza Dell'amore di Dio Noi possiamo passare Attraverso La fornace ardente Cantando E senza essere Scottati Cari amici Guardate che È così È così Ma data parte Noi lo vediamo Che ci sono Delle persone Che sono contente E pur tribolate Non solo hanno La pace Hanno la gioia Perché Perché fanno L'esperienza Dell'amore infinito Di Dio E questo Che la Madonna Ci vuol dire Per cui chiudo Adesso Esortandovi Alla meditazione Di questo Bellissimo passaggio Dell'ultimo messaggio Della Madonna Sono con voi Perché l'Altissimo Mi ha permesso Di amarvi Cioè lei ha chiesto Di poter Andare oltre I limiti E di guidarvi Verso la gioia Del cuore Che presuppone La fede Che cresce In tutti coloro Che amano Dio Sopra ogni cosa Insomma Nella fede Nell'amore Sperimentiamo La pace del cuore L'almanacco della fede Di Padre Livio Di Padre Livio Di Padre Livio Grazie a tutti.